Entro fine maggio 500 sanitari che non avevano aderito alla campagna saranno vaccinati contro il Covid. 126 non avevano alcun motivo se non timori personali. Con questi numeri quasi la totalità del personale ASL sarà coperto. Molta gente aveva timori, paure, la malattia che è intercorsa perché sapete che i sanitari hanno pagato anche un tributo importante dal punto di vista della malattia. La campagna vaccinale in generale prosegue senza particolari intoppi, a parte il difficile reperimento del vaccino. Nella nostra provincia direi che sta andando bene. Ci sono come sempre dei problemi connessi all'approvvigionamento dei vaccini. L'importante è ribadire sempre comunque che la vaccinazione insieme ai comportamenti cauti e prudenti che non bisogna abbandonare è il presidio per cercare di superare la pandemia. Il personale sanitario ha pagato un tributo altissimo, 570 malati di Covid dall'anno scorso ad oggi e 10 vittime. L'anno scorso in un anno avevamo 540 infortuni che abbiamo denunciato e quest'anno una trentina. Con l'ingresso della vaccinazione si è abbattuto drammaticamente il numero di persone ammalate.